...devo chiedere il permesso ai miei amici giovani! Benvenuti amici! È il momento di darmi al cinema! Volete che recito con Alvaro Vitali? Con Paolo Villaggio? Volete che reciti con Leonardo DiCaprio? E allora, portatemi da Leonardo DiCaprio! Sì! Sì! Mochita! Sì! 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 che si è seduto? Uno dei nostri ragazzi. Uno dei nostri? Ma che cosa stai facendo? Non far altro che mandare a molte operazioni. Regole del giorno, se la macchina viene bloccata si comincia a sparare. Ben detto! Non si fanno prigionieri, tutti muoiono. Tu gli spari nel cervello, io li ammazzo col coltello! Eccoli, li vedo, li vedo! Ci stiamo in gona. Oh mio Dio! Vai super lente! Trovato! Stringo l'inquadratura. Sei in ascolto? Così attirate l'attenzione. Questa cosa la gestisco da sola. Devo fidarmi di chiunque posso adesso. Fidati! C'è un piano per distrarre il nemico! Come posso mandare avanti un'operazione quando tu ne mandi avanti un'altra in parallelo? Formi tutti! Su le mani! Io non ce la faccio più. Non hai le idee molto chiare! Io ce le ho le idee chiare. No! Sei tu che non le hai. Che brutta cena, Leo! Ecco, mi senti? Noi adesso andiamo a nord, mi senti? Sì! Ti sento! E lei? La senti? A dettagli portali ad Amsterdam, Londra e altre città europee. Avresti dovuto mandare una squadra appena Isara è stato ucciso. Ma non l'hai mandata una squadra, vero? Vero! Cazzo, Leo! Sono impegnatissimo! Ti vuole rum, zucchero, menta, poi ghiaccio. Conosci il ghiaccio, Leo? Che c'è? Non ti piace il muocchipo? Ma è troppo sempre di potere! Che cavallo! Io non sono di tuo gusto, tu sei invece l'uomo! Giusto!